Non è la prima volta che succede, ma chi abita al Civico 13 di via Passolanciano a Pescara certamente si augura che sia l'ultima. Calcinacci in caduta libera, staccatisi dal cornicione di un edificio Ater e schiantatisi a terra, col pericolo di colpire ignari passanti. A denunciare l'episodio sono stati alcuni cittadini preoccupati per lo stato di salute dell'edificio, non nuovo a episodi di questo genere. A raccogliere la segnalazione è stato anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che ha allertato immediatamente l'Ater e i vigili del fuoco. Io ho avuto questa segnalazione, sono intervenuto immediatamente questa mattina, ho constatato che si sono staccati dei calcinacci dai piani superiori, ho immediatamente chiamato l'Ater, ho informato la direzione dell'Ater, ho chiamato i vigili del fuoco informando di questo accaduto, mi hanno detto che arriveranno per verificare e mi auguro intanto che non ci siano problemi di staticità del palazzo perché sarebbe veramente grave, ma non solo, questo palazzo va messo in sicurezza, ma tutti questi palazzi di questo quartiere, via Passo Lanciano, non solo vanno messi in sicurezza perché sono veramente in uno stato di estremo degrado, basta vederli, quindi qui vanno fatti interventi importanti, ma sì c'è a maggior ragione oggi che si possono sfruttare i finanziamenti e i contributi statali, infatti io parlavo con i cittadini e mi hanno detto ma perché non utilizzano e non accedono ai finanziamenti statali per i super bonus, ecco questo sarebbe un altro problema importante, mi auguro però che si metta subito in sicurezza questo edificio e tanti altri. In attesa dei rilievi e delle verifiche del caso l'area è stata transennata come disposto dall'amministratore dello stabile.